Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER! Io ho la famiglia! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Finalmente, cuore nero fase 4! Pronto! Come ti sembra questo cuore nero la fase 4? È interessante! Andiamo a vederlo un attimo nel dettaglio... BROONG! Beccatelo lì che cattiveria! Beccatelo lì! Guardalo! Guardalo! Aia! Aia! Guardalo! Guarda che storia! Guarda che storia ragazzi! Che occhio! Che uncino! Uncino ovviamente in versione scheletrica! Ah ma tutto vedi che dentro c'è lo scheletro è tutto... Meraviglioso! E si vede anche la mappa nel tesoro! Dentro nello stile! Oh! C'è la X! C'è la X! Che figata ragazzi! Che figata! Niente, cuore nero fase 4! Pronto! Guarda a voi come vi pare! Sganciate un bel like ragazzi! Ed iscrivetevi al canale! Ciao! Buongiorno! Grazie per la visione!